C'è un sentimento comune nell'animo di ogni motociclista, la scoperta, quel bisogno incessante di arrivare dove gli altri si fermano, di assaporare appieno le meraviglie che il mondo ci presenta davanti, di conoscere e di toccare con mano tutto ciò che c'è di bello. Ci sarà sempre un compagno nelle vostre avventure che condividerà con voi le esperienze, esperienze che vi troverete a vivere in sella alla vostra moto. Il vostro casco parlerà di voi, di chi siete, dei vostri sogni. E questo dirà gelosamente il ricordo di chi abbiamo amato. Sapete qual è il regalo più grande che vi possa fare un motociclista? Un casco. Perché quel casco vi accompagnerà nella gioia e nella felicità. Quando girando senza una meta, saporerete la spensieratezza della vita. Godendovi il viaggio e non la meta. Dove ogni piccolo dettaglio diventa importante. E dove l'acceleratore diventa una porta verso la libertà. Il casco vi accompagnerà nel dolore, quando cercando di scappare dai vostri demoni, cercherete di andare il più lontano possibile da ciò che vi fa soffrire. Capirete però che quei mostri sono dentro di voi. Che non c'è una via di fuga, se non quella di combattere. Allora, piano piano, li sconfiggerete uno alla volta. Crescendo, diventando più forti e più consapevoli di quanto ognuno di noi sia straordinario. Già, ci sarà quando capirete l'amore per voi stessi, per la vostra passione, per le scelte che avete fatto. Nonostante i pregiudizi e le regole che questo mondo ci impone. Quando il mondo e la gente vi sfiderà ad una gara alla quale voi non parteciperate. Perché non ne avrete bisogno. Perché seguendo la vostra passione, voi avete già vinto. Senza dover dimostrare niente a nessuno. Quel casco vi accompagnerà nell'amore. Quando vi renderete conto che ci sarà qualcuno per cui valga la pena chiedere scusa. Per cui valga la pena rischiare. Qualcuno che vi faccia tirare fuori il meglio. Che vi sostenga e che vi conduca ad essere la versione migliore di voi stessi. Giorno dopo giorno. Sapete qual è il regalo più grande che vi possa fare un motociclista? Un casco. Perché vi sta dicendo che si preoccupa per voi, che tiene alla vostra vita. Vi sta dicendo che il posto dietro di lui vi appartiene. Non importa se per poco tempo o per sempre. Il posto dietro di lui, sopra la sua moto, sarà per sempre il vostro. Beh, c'è un'ultima cosa che voglio dirvi. Perché è lì che i sogni nascono e crescono. Il posto dietro di lui, sopra la sua vita.